ah ci sono ah mica mi dice creep salvato ogni 3 secondi ma che cazzo è porca broia eh si quando mi entoppo gioco in una bomba ma dov'è? ah è qua addio scioco una bomba bocco ma gioca da io meglio ma che cazzo è preso un colpo ma milko ma sei caduto da sotto mi sa che sia eh 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 se si fa una roccia se ti interessa la roccia del drago non riesco a salire non so neanche come ti butto giù e morire mi sa no? non lo so ma se qualcuno dovrà pur contare no ha capito lui ma così un po' di niente ma quando avrò un po' di farla ma pure che non so fare io del cazzo mi droga ma capito ma io non è che ben cazzo di queste cose io ben cazzo che parco addio vi lamentate tanto che quando la gente gli fa rompe i coglioni ah Nando Mirko Claudio ma cazzo combattiti questo è un po' di qua che c'è da aiutare voi tu se per te mi vengono la nostra no che cù savei già a cura delizio ma che cazzo vuoi? ma che cazzo vuoi? ma che cazzo vuoi? ma che io quando in c'è Nando oh Nando me servi ma quando vuoi? perchè tu mi fanno fra qui ma no perchè lui mi fanno comprati le macchine per cuore non prendi i due che mi devi fa ammazzare oh c'è posso stai che spegne oh un 2 milioni 700 mila una macchina che curi ok ma del resto nel 10 mili non lascio io lo abbassi qui qua a dormire ma mentre che poi ci sono solo locali ma non ricordo poi non c'è pesante ecc ma sono saluto ahhh ci sono cose c'è un'altra sette match si mette tutti contro tutti si